buongiorno dalle andromaggi buongiorno da rosolina oggi siamo nelle valli adiacenti appunto rosolina mare perché perché siamo alla ricerca dei fenicotteri rosa ci hanno detto che qua ci sono numerose colonie di questo straordinario uccello che è molto spesso nelle nostre nelle nostre zone e quindi attraverso il drone dell'amico andrea smiderle proviamo a vedere se riusciamo a beccarli purtroppo non potremmo avvicinarci più di tanto perché poi dopo quando sentono il drone passano paura ma comunque ci hanno assicurato che a quest'ora riusciamo a trovarlo buongiorno 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 riuscito ad avvicinarsi moltissimo a questa colonia di fenicotte di rosa è un'altra eccellenza nel nostro territorio un'altra bellezza in più di questo delta del po sempre più bello sempre più affascinante sempre più anche misterioso che ogni volta riserva delle sorprese delle cose straordinarie quindi che dire amate questo delta soprattutto noi cittadini del Polesino da Leandro Maggi e da Andrea Smiderle vi ringraziamo ciao a tutti Grazie